Se la genetica ha un senso, Marco Risi deve essere ricchissimo. È un patrimonio che non si misura con un conto in banca, ne ha a che fare con i numeri. È ironia, disincanto, consapevolezza. Ci sono ore lente e ore che corrono. Quelle di Marco Risi hanno il ritmo irregolare di un uomo che ha saputo camminare in mezzo al fango e sui prati curati con la stessa leggerezza di chi conosceva un segreto. Dino, suo padre, regista di film entrati nell'immaginario collettivo, lo aveva portato sul set quando era ancora bambino. E da allora, e per sempre, le storie del cinema sono diventate anche sue. Ha raccontato la periferia di Palermo e le italiane di Malindi, le parabole dei giornalisti coraggiosi in muri di gomma contro cui le domande si infrangono e ritornano indietro. Ha declinato le sue storie con talento senza mai sentirsi provvisto di un particolare talento. Le ha srotolate, una dopo l'altra, senza compiacimento. Non è affatto detto che adesso, superati da qualche curva ai 70 anni, abbia imparato a piacersi. Ma è rimasto un uomo curioso, che scrive per non dimenticare nei ricordi nuota, bracciata dopo bracciata, senza mai perdere il proprio ritmo. Marco Risi sa che è complicato e a volte sconsigliabile sapere troppo di sé, ma non si è stancato di interessarsi agli altri. Me l'ho raccontato davanti a un caffè a casa mia, mentre fuori dalle finestre un temporale armava grandi gesti grigi. Io sono Malcom Pagani e questo è Dicono di te, un podcast prodotto da Cora Media e Tender Stories. Senti, te lo ricordi Luna Piena, ha detto Charlie Brown? Sì. Chi era Luna Piena? Il mio amico, compagno di scuola Massimo Borgna. Faccia da Luna Piena lo chiamava mio padre. E gli altri invece più cattivi lo chiamavano il Capoccione. C'era il figlio del parcheggiatore ed era il nipote del garagista dal quale lasciavamo la macchina in Viale Parioli. Che non era la Viale Parioli, i parioli quelli che tutti si immaginano, dei pariolini, dei ricchi. Di fronte a casa mia c'era il palazzaccio, per esempio. Detto il palazzaccio perché ci abitava di tutto, appunto ci abitava anche Massimo Borgna. Come erano i parioli di allora? Beh, io conoscevo Viale Parioli soprattutto. Poi salivo nei piani alti dove c'erano altri amici, che era via Barnaboriani, che già lì si stava più eleganti. Però, ma insomma, a me piaceva abbastanza Viale Parioli. E poi alla fine uno continua sempre a odorare le stesse puzze perché ci sono abitato vicino altre volte. Ho abitato lì vicino anche per stare vicino a mio padre quando negli ultimi anni non stava benissimo. E poi adesso, anche se mi sono allontanato un po', ci capito spesso perché amici, cose, uffici stanno da quelle parti. Non lo so, una volta c'erano i negozietti, no? C'era Coso, c'era Cesare, il fruttivendolo. Che non si sa perché io che mi chiamo Marco mi chiamava Marcellino. Marcellino, pane e vino, che era il film che io detestavo più di tutti al mondo. E quando passavo davanti dicevo, ehi Marcellino, pane e vino. Ancora me lo ricordo. E poi c'era Pisciarelli invece che c'era un negozio di... Un salumiere che aveva sette figli. E mi ricordo la moglie che era sempre incinta. Io l'avevo vista sempre incinta. Forse otto, no? Com'era il rapporto col cinema per un ragazzo che il cinema ce l'aveva dentro casa e che a dieci anni viene portato sul set della Marcia sul Roma ed ha una sorta di iniziazione sentimentale, di educazione sentimentale? Quello è stato un momento... Ma in realtà il mio primo impatto col cinema non è stato quello, ma è stato uno qualche anno prima a Cincinnato, al Lido di Cincinnato, dove stavano girando le sette fatiche di Ercole. E io con la mia adorata Gina, che era la nostra, all'epoca si poteva dire cameriera, facevo una passeggiata sulla spiaggia e improvvisamente girando sulla destra siamo finiti in un posto assurdo, con dei geyser di fumi arancioni. In fondo c'era una specie di partenone costruito con Ercole legato alle catene che tirava facendo uno sforzo in mane, sudato, bello, forte, muscoloso e alla fine crollava tutto. Io dico, ma com'è possibile? E poi scoprivo che era tutto polistirolo e scoprivo il cinema, cioè la finzione del cinema. Cioè quello lì poteva tirare giù il partenone e non si faceva niente. L'attore si chiamava Reeves e poi anni dopo ti capita a Ponzo una cosa curiosa, no? Che cosa succede? Succede che da dove si lancia all'inizio del film Picchio, cioè Libero De Rienzo mi hanno detto quelli di Ponzo che era lo stesso posto da dove si lanciava 40 anni prima, 50 anni prima Steve Reeves nelle sette fatiche di Ercole quel film che io avevo visto. Hai detto che all'epoca si poteva dire cameriera oggi perché non si può più dire cosa è cambiato? Ma non si può dire neanche più cieco, bisogna dire non vedente o diversamente abile insomma tutte cose un po' che mi lasciano un po' perplesso. E non ti capiti mai di pensare che la metà della cinematografia italiana e non solo di quel periodo oggi in omaggio al politicamente corretto non si potrebbe più giurare, non si potrebbero più pensare alcune cose? Sì, è un dolore terribile, è un guaio che è successo in tutti questi anni ma anche nella letteratura ho notato che si stanno molto attenti a quello che si scrive cioè non ci sono più quelle libertà, cioè oggi Norman Mailer sarebbe bandito Henry Mailer sarebbe cacciato a calcio in culo. Ci sono tante cose che non vanno in nome di questo politicamente corretto che sta facendo forse più danni che bene. Come è potuto succedere secondo te? Perché ci si evolve, ma non è detto che questo evolversi non porti all'involversi. Questo è il pericolo, bisogna diventare sempre più buoni, più bravi e alla fine succede che invece scoppiano le guerre perché non ce la si fa a sopportare la pace più di un tot numero di anni. Una volta c'erano le guerre ogni vent'anni e ogni volta poi succedeva che dopo la guerra si ricostruiva e il paese era migliore. Adesso stiamo lì tutti quanti, meno male che non ci sono più le guerre ma stiamo lì che le guerre ce le facciamo dentro casa, ce le facciamo con gli altri e poi cerchiamo come apparenza di essere più corretti, più giusti, più bravi, più onesti ma non è vero. Era molto onesto per esempio fino quasi alla crudezza il primo macchinista che ti incontra sul set della marcia su Roma è giugno ma fa caldo come se fosse costo. Sì, quella sì, io lo so che tu volevi arrivare lì già da prima già da alle fatiche di Ercole però sì, quello fu interessante perché fu la prima volta in cui andai su un set di mio padre perché lui non ci teneva particolarmente che i figli seguissero la sua strada e che gli andassero a rompere le scatole sui set soprattutto quando c'erano donne in quel caso non c'erano donne quindi si poteva andare e sono andato a vedere questa scena in cui c'erano Garsman e Tognazzi che arrancavano vestiti da fascisti con le camicie nere, il fez e c'erano dei contadini che gli tiravano i sassi e io poi mi sono accorto che questi sassi erano di gomba quindi altra cosa meravigliosa del cinema il cinema non fa male tiravano i sassi e quelli li beccavano ma non si facevano niente e poi durante la pausa io ero attento a quello che succede mi sembrava che si perdesse sempre un sacco di tempo si rifaceva la scena Tognazzi sbagliava il nome di Garsman e io lo feci notare a mio padre e lui mi disse non ti preoccupare stai buono tanto si doppia tutto quindi si doppia si può anche cambiare si può correggere con la cosa che tu hai detto male sbagliando quindi la puoi correggere dopo pensai che meraviglia il cinema rispetto alla vita e poi appunto faceva un gran caldo all'ora di pausa all'una, all'una e mezza c'era questa segretaria di edizione che era molto carina ancora mi ricordo si chiamava Costanza io avevo undici anni e c'era questo direttore di produzione che si chiamava Santoni che aveva una voce un po' così sai quelle voci che c'erano anche in otto e mezzo di Fellini che c'era quel direttore di produzione beccato al letto con le due sorelline e si accorse evidentemente di questa cosa e mi prese la mano e me la mise sulla testa di questa Costanza io ero un po' in imbarazzo e mi disse hai sentito che caldo che fa Marco hai sentito che caldo e io dicevo sì sì e cercavo di sfilare la mano ma lui la teneva lì poi alla fine capendo il mio imbarazzo la tolse dalla testa da quei capelli e mi disse una cosa terribile non so se si può dire certo che si può dire si può dire tutto tutto e mi disse un bambino di undici anni ero anche carino educatino insomma bellino mi disse molto ho fatto sentire quelli di sopra dopo ti faccio sentire quelli di sotto e se ne andò con un ghigno di quelli da fumatore come per dire gliel'ho detto dai questo mi sa che diventerà uno terribile come la definiresti l'educazione che hai ricevuto tu? attenta anche se se non convenzionale cioè non è che per esempio una cosa che io ho sempre guardato con molta simpatia era il fatto che noi io e mio fratello potevamo fare il bagno anche dopo mangiato subito dopo mangiato anche un'ora dopo cinque minuti dopo mentre gli altri no avevano i genitori che dicevano no non vi buttate non vi buttate è pericoloso invece noi tranquillamente io mi chiedevo allora i miei genitori o sono loro dei disgraziati mascalzoni che vogliono liberarsi dei figli oppure sono troppo apprensivi gli altri e ho optato per la seconda ipotesi in realtà si stava attenti mio padre poi non c'era tantissimo ma era con noi era molto aperto molto tranquillo insomma si parlava veramente quasi di tutto però era molto attento che non si dicessero troppe stronzate ecco che non si facessero troppo i bambini capito ci ha educato subito a cercare di capire un po' il senso della vita insomma era attento a che non diventassimo dei dei bambacioni dei figli di viziati qual era il senso della vita per Dino secondo te c'è scritto un libro bellissimo sopra è una domanda diciamo no se vi invitava a cercare rapidamente il senso della vita doveva avere uno ben chiaro davanti agli occhi no non credo no in realtà si ci voleva far capire che non bisogna prendere le cose troppo sul serio e che invece le cose che fanno ridere bisognava prenderle molto sul serio non era un tipo ecco rifugia per esempio da tutto quello che poteva essere l'impegno politico pur avendo una sua idea sfuggiva da tutto quello che era e anche a noi non è che ha cercato di darci chissà quali insegnamenti o lezioni per esempio lui era ateo per dire no non era battezzato tutta la sua famiglia però ha sposato una cattolica lui diceva anche di non essersi sposato perché era come se fosse stato testimone del suo matrimonio perché in chiesa un ateo come fa a sposare una cattolica ma non ha cercato per esempio di dire a nostra madre no che dove li mandi in che scuola abbiamo cominciato con una scuola pubblica che andava benissimo ma mica tanto perché io in quattro anni ho cambiato tipo otto maestri e allora alla fine mi hanno mandato in una scuola di preti di frere e lui non è mai venuto un giorno della sua vita a prendermi a scuola per esempio che sono le cose queste non essere prese a scuola dai genitori che in un dato tempo in un solo effimero passaggio dispiacciono i figli sì sì mi era dispiace di più quando era venuto a vedermi giocare a calcio e mi disse alla fine della partita però batti bene i falli laterali che non è proprio esattamente un complimento era molto caustico e divertente se non eri attrezzato potevi starci anche molto male ma se riuscivi a capire un po' lo spirito e cosa guidava quell'uomo lì che era buono fondamentalmente e interessante e giusto allora ti divertivi anche io mi sono divertito molto con lui Dino Risi hai detto tu ha alzato una sola volta la voce con te questo cambio di tono rispetto alla sua seraficità verso i fatti del mondo accade perché tu ad un certo punto prendi un fischietto in mano per il ricordo di questa storia sì sì come no mi ricordo sì lui lo fece anche per quelli che erano perché io avevo un fischietto che credo che mi avesse regalato proprio lui che era un po' quello degli arbitri sembrava e mi accorse che questo fischietto aveva un potere meraviglioso calcola che saremmo stati nel 57 58 io avevo 6 7 anni e mi sono accorto che dalla finestra del bagno che dava appunto su Viale Parioli le macchine che passavano al sentire il fischietto si fermavano immediatamente quindi avevo un potere pazzesco e quindi ho fermato non so quante macchine avevo fermate 100 che poi si guardavano intorno poi vedevano che non c'era nessuno e ripartivano però questa cosa si vede che è stata riferita a qualcuno in alto a qualche vigile e venne un commissario di polizia che poi non era facile trovare casa nostra perché bisognava fare una salitina sono al campanello e io non sentii niente perché era ancora su perché era su due piani la casa e poi sentii la voce di mio padre che gridò Marco e io accorsi e mi disse dov'è il fischietto? lui aveva capito subito che si trattava di me mi ha denunciato sono stato collaboratore di giustizia in quel momento e presi il fischietto glielo diedi e poi lui lo buttò via davanti al commissario di polizia che guardò con con ammirazione il regista Dino Risi che faceva un gesto perentorio per dire questa è la punizione e poi venne su in camera a mia mi ha detto mi dite un calcio in culo e uno schiaffo queste cose non si fanno non lo faremo in più la prima e unica volta un'altra volta fu a Tor San Lorenzo al mare che ci beccava uno schiaffone io e mio fratello anzi mio fratello no fu bravissimo perché io me lo presi invece lui fece picchiami sì picchiami picchiami allora lui si intenerì se gli venne da ridere non gli diede la schiaffa io me ne beccai solo uno io quindi torno a quello che dicevi prima sulla politica tu hai nel 68 i 18 anni a differenza della stragrande maggioranza dei tuoi coetani che rifiuta il rapporto con la famiglia e che si illude recidendo il cordone con i diretti consanguini di potersi emancipare sei felice di tornare a casa a parlare con tuo padre e poi nel quando ti chiedono che cosa è stato il 68 per te tu dai una risposta formidabile sì questa qualcuno me la invidia ancora è una risposta stupida però funziona è divertente cioè questa giornalista mi ricordo al mio primo film secondo ed eravamo nel 82 83 e mi disse perché avevo gli anni giusti per averlo fatto mi disse ma lei ha fatto il 68 e io le dissi no perché stavo sulla Cassia che in realtà era anche vero un po' perché ma dava anche l'idea del mio tipo di impegno insomma guardavo diciamo da lontano diciamo per chi non è di Roma stare sulla Cassia significa stare nella parte nord nord di Roma dove c'è ci sono complessi residenziali case tranquilli in cui i fumi della politica delle barricate arrivano molto da lontano bravo e io li guardavo quei fumi e li guardavo da lontano leggevo leggevo i giornali papà comprava un sacco di giornali guardavo da lontano e mi sembrava sì di capire delle cose che poi non so se avessi ragione o no perché forse avrei fatto bene invece comunque a partecipare perché questa cosa mi ha sempre tenuto un po' lontano dalle cose che succedevano stare sulla Cassia quindi non mi sembrava che potesse finire non ci sentivo tutta questa cosa di meraviglia di impegno vero che poi sarebbe sfociato in chissà cosa tanto è vero che molti di quelli che poi hanno fatto il 68 li ho rivisti invece con giacca e gravata che erano diventati asserviti al potere un po' non lo so ma insomma ho sempre guardato tutte le cose con un certo occhio critico forse venendo appunto da tanto padre credo che questo fatto di osservare di non fidarsi sempre di tutto anche di tutto quello che ti dicono perché io all'inizio anche da bambino mi fidavo molto di quello che mi dicevano mi fidavo anche di mio fratello che mi diceva di mettere il dito nel catrame bollente per vedere se fosse caldo o no poi da lì in poi ho cominciato a capire che forse bisognava stare attenti e non fidarsi proprio di tutti che era Claudio Risi tuo fratello Claudio Risi era una persona buona sì era un fratello peccato che negli ultimi anni avevamo un po' chiuso i nostri rapporti per stupidaggini poi ma da piccoli insomma eravamo molto molto legati molto uniti fino a quasi alla fine diciamo tranne appunto quell'ultimo periodo era buono era molto molto istintivo molto spontaneo molto più più fragile ecco più fragile di me io riuscivo a controllarmi mentre lui era più più istintivo sì più aperto più facile alle 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 violenze della vita insomma soffriva soffriva più di me e però insomma è uno che ha fatto ha fatto tante cose tante cose divertenti ha fatto i ragazzi della terza c per esempio è stato il suo successo una delle cose che i ragazzi ancora oggi vedono insomma avevamo non lo so un rapporto sai la nostra famiglia non è mai stata poi una famiglia di quelli ah volemose bene siamo così eravamo molto legati ma senza dircelo un po' come Hans Castorp e il suo fratello Joachim che non si chiamano per nome ma si dicono delle cose che non si possono che sono quelle che si dicono ma non si va mai fino in fondo profondamente anche perché non ce n'è bisogno è come William Blake l'amore non si dice perché altrimenti è già svanito bravo ecco e quella cosa lì certo non si parla e questa era una delle regole se in casa scendendo diciamo di chiare e invece ecco Claudio era un po' più per parlarne e questo era un problema perché mio padre invece sfuggiva da questo tipo di cose ma cosa dici ma dai ma no quindi bisognava stare attenti a quello che si diceva e a lasciarsi andare un po' troppo ai sentimenti alle cose secondo lui secondo mio padre facili tu hai detto una cosa prima sulla fragilità lui era più fragile di me si faceva toccare di più le cose lo ferivano maggiormente tu come hai fatto a difenderti dalla fragilità come hai fatto a difenderti dal dolore in qualche modo beh ho imparato ho imparato col tempo anche perché è successo che a un certo punto della mia vita tutta questa roba qui era diventata molto pesante era diventata pericolosa e cadi in quelle cose lì in cui non vorresti mai cadere se non oppure magari le provi a pensarle perché pensi che siano cose interessanti e sto parlando della depressione che ti possa portare verso ma invece invece no è soltanto una cosa che fa un gran male un gran dolore quindi con quello che forse era figlio anche del fatto appunto che dovevo difendermi da certe cose magari non non mi espletavo come si diceva nella commedia all'italiana di una che faceva la prostituta che fa che lavoro fa si espleta e quindi dovevo imparare a a reagire alle alle cose facendo per esempio una cosa banale banalissima che mio padre disse a Gasman quando era nella sua seconda grave depressione poi la terza invece fu quella che lo portò via si incontrarono e loro si volevano un gran bene anche se non è che appunto come dicevamo prima si vedessero poi così tanto a parte i film e Gasman stava molto molto male era depresso e lui mio padre gli diede il consiglio più stupido del mondo che è quello che un depresso non si vuole neanche sentir dire cioè non ci pensare non ci pensare come fai a dire a un depresso non ci pensare perché è la è proprio la condizione nella quale tu stai sempre da quando ti svegli la mattina fino alla sera quando cerchi di addormentarti e anche se riesci a non pensarci c'è sempre qualcosa che ti riavvolge e ti riporta in quella condizione quindi lì bisogna fare un grande un grande lavoro che non è non è facile e mi ricordo una cosa terribile di Vittorio Gasman che quando io gli proposi quel film che avremmo dovuto fare insieme e avevamo cominciato anche a girare una scena poi avremmo dovuto fare in altri periodi dell'anno perché era ambientato in varie stagioni ci vediamo per il film lui era uscito dalla sua seconda depressione e ne parlammo un po' avevamo letto anche tutti e due un libro di William Styron che parlava proprio di quella cosa e lui a un certo punto mi disse ma sai che ogni tanto ho un po' di nostalgia e io gli ho chiesto ma di che cosa della depressione dice sì sì come se quel sentimento così forte così profondo così violento ma così anche intenso nella superficie del sentimento quotidiano possa mancare a una testa intelligente capito troppo intelligente ma allo stesso tempo ti puoi rendere conto che stai dicendo una cosa un po' fuori forse un po' troppo tant'è vero che dopo quando gli venne la terza depressione ci vedemmo ancora perché io speravo sempre di portare avanti il film gli dissi proprio questa cosa ma tu ti ricordi Vittorio quando quella volta mi hai detto che ti mancava questa cosa lui stava in quello stato e lui mi disse si dicono tante stronzate risposta un po' da commedia all'italiana però vera è molto possibile un po' come gli uomini di 50 anni di oggi ricordano il loro essere stati giovani verteri a 17 e quelle sofferenze amorose strazianti come forse l'apogeo il massimo risultato dell'amore è possibile che uno torni alla sofferenza con nostalgia è una possibilità per esempio per te che cos'è la nostalgia? io comincio ad avere gli anni cioè comincio già ce li ho da un po' gli anni in cui ci si ricorda si vive di meno e ci si ricorda di più mi ricordo tante cose e tante cose mi danno una profonda nostalgia nostalgia è un sentimento e in certi casi può anche essere doloroso perché è irripetibile perché quel sentimento lì quel momento lì di quell'attimo di felicità magari e poi c'è anche la nostalgia appunto dei momenti invece più difficili chi è che diceva no? l'ho messo anche una cosa che piaceva tanto a mio padre che c'era che ho messo anche nel libro che diceva di Chekhov che aveva scritto di essere stato felice una volta sola sotto un ombrellino quindi uno immagina subito la scena vedi che la scena è lì e ci sono momenti in cui uno si rende io ho un momento per esempio banale banalissimo stupido da turista quasi con una mia amica svedese e una sua amica seduti in un ristorante di piazza Navona e ancora mi ricordo in quel momento che dissi ah io adesso sono felice ed è durato appunto i tre secondi di Chekhov è meraviglioso mi viene in mente che la familiarisi con la Svezia ha dei punti di contatto lui più con l'Olanda alla fine il suo grande amore finale è stato un olandese era lei o era la solitudine il grande amore finale di tuo padre il grande piacere di stare da solo il grande piacere di stare in un residence affacciato sullo zoo di Roma qui si possono dare tante versioni però diciamo forse la più intelligente è quella che che si gli piaceva molto stare da solo ma non so veramente fino fino a che punto e fino a quanto in fondo perché lui che andò via di casa con la valigia preparategli da mia madre perché lui diceva ma fammi la valigia e lei diceva giustamente fatela da solo però poi alla fine si era stufata talmente tanto anche lei che gli fece la valigia e lui andò al residence al droandi per starci una settimana e invece ci è rimasto trent'anni e dopo quella settimana due tre provò chiamò mia madre chiedendole di tornare Claudina che ne pensi e lei invece che aveva capito tutto gli disse no e lì fu brava perché fu molto coraggiosa cosa invece che non ha fatto Edith perché Edith era veramente mia zia Edith che aveva sposato il fratello di mio padre Nelo Edith Brook diciamolo Edith Brook ha sposato Nelo Risi regista ma anche grande poeta lui a un certo punto si era allontanato per trent'anni e lei invece dopo i trent'anni l'ha ripreso in casa come se fosse passato un giorno e tu gli eri chiesto a tua madre perché non si è ripreso tuo padre questa ma in realtà me l'hanno detto dopo ma ma lo sapevo perché perché sarebbe stato un inferno mio padre era insopportabile era divertente per me per i figli e cose per una moglie deve essere stata una cosa ma non tanto per i tradimenti le cose perché a quell'epoca ci si svolazzava sopra ma per il fatto che che era un criticone che era un rompiscatole terribile insomma cioè per avere un complimento da lui bisognava sudare sette camicie quindi in cucina non so quando si preparava c'era sempre una cosa che magari era difficilissimo però quando diceva oh buono allora lì era grande soddisfazione e quello succedeva anche con noi figli con i film che facevamo infatti lo stavo per chiedere te lo stavo per chiedere bravo e come andò la prima volta per esempio vado a vivere da solo il tuo primo film e tu lo sai perché l'hai letto ma andò che disse una cosa che secondo me non era un complimento per niente perché disse oh sei un professionista che voleva dire che vabbè magari sapevi dove mettere la macchina da presa fare delle inquadrature delle cose ma era un film secondo lui un po' troppo così leggerino ma anche il secondo non mi ha detto niente che c'era una sceneggiatura bella scritta con agge scarpelli il terzo così ah il terzo disse una cosa bella perché i miei primi tre film erano con Gerry Calà no il primo vado a vivere da solo il secondo un ragazzo una ragazza e il terzo siccome fu quello che andò peggio di tutti ed era quello con il quale avrei voluto esordire lui diede la colpa a Gerry Calà no in realtà no però disse levategli l'accento Cala Cala Gerry Cala Gerry Cala questa faceva molto ridere secondo me però anche tuo padre voglio dire che ha fatto dei capolavori poi ha fatto dei film meno belli nel crepuscolo della carriera e tu hai scelto scientemente di non andarle a vedere di non vederli mai tu il commissario del gatto non l'hai mai visto l'ho visto dei pezzi che poi non era neanche così brutto mi sa non era neanche così brutto no non era così brutto me lo rimprova era molto Lino Banfi che io ho detto che non era un film però non ho mai visto quello con Anna Falchi ecco però lì giovani e belli sì perché quando uno si rifà il verso poveri ma belli e fai giovani e belli a 80 anni non va bene c'è qualcosa che non va lì e non lo vedrai mai? no te ne andrai da questo modo speriamo il più tardi possibile senza averlo visto senza aver visto quello e senza aver visto mai Marcellino Panevino ah quindi lo odiavi per partito preso? sì perché doveva essere il primo film della mia vita Marcellino Panevino arrivati davanti al cinema io vedi il manifesto e gridai che non sarei mai entrato a vedere quel film mi ha odiato perché era un manifesto che faceva paura c'era un Cristo con una luce illuminato e un bambino sotto che piangeva e guardava verso questo Cristo con una cosa di terrore io adesso vado a memoria secondo me Marcellino Panevino del 57 può essere no? perché tu sì e io avevo sei anni sei anni sette anni sì beh erano anni appunto se tu pensi alla campagna elettorale del 48 in cui anzi scusa la campagna elettorale del 53 la legge truffa ci sono dei manifesti c'era anche qualcuno lì a destra ci sono dei manifesti che disegnano lo scontro tra i due mondi e quindi c'è sempre il potere immanente la punizione divina qualcuno che cala dall'alto non c'è niente di allegro in quella roba il crocefisso è una cosa che potrebbe anche far paura infatti altre religioni si dicono ma come fate ad adorare un crocefisso dove è stato inchiodato un uomo ma tu per esempio il tuo primo film te lo ricordi? la tua prima sala cinematografica? io la mia prima sala cinematografica credo sia stata proprio lì quella lì che doveva essere appunto Marcellino Panevino però non l'ho mai visto però dopo un po' cominciai ad andare al cinema ma non mi ricordo esattamente il primo film sai questo è strano mi piacerebbe ricordarlo ma non non ricordo andavo a vedere lì alla sala parrucchiale Euclide un sacco di di film tutti i film che davano un film al giorno andavo e e tornavo a casa certe volte molto contento soddisfatto meglio mi sentivo meglio e volevo essere come quel personaggio lì di quel film quindi il film aveva un potere importantissimo e altre volte invece no deluso e una volta non so perché vedi cose strane dei bambini portai una fionda al cinema con della plastilina sai la plastilina verde e facevo delle palline con la plastilina verde e la mettevo e tiravo sullo schermo ma quindi però senza volontà di colpire il vicino che già è qualcosa no no senza il vicino no una cosa iconoclasta contro il cinema stesso contro il cinema contro sì contro forse quello schermo che faceva vedere delle cose che in fondo non erano vere no adesso faccio invento ma però scappai alla fine del primo tempo una volta c'era la fine del primo tempo perché vedi lo schermo bianco pieno di macchie verdi meglio andarsene che se ne beccano la tv a casa ce l'avevate? sì siamo stati fra i primi mi ricordo si vedeva mi ricordo 1,2,3 però 1,2,3 lo andavamo a vedere al mare mi ricordo lì appunto a Cincinnato al lito di Cincinnato andavamo a vedere in uno stabilimento 1,2,3 con Raimondo Vianello e Ugo Tognazzi che mi faceva ridere quella cosa ecco gli facevo anche l'imitazione a mio padre la cosa dello stuzzicadenti ecco era una delle cose che mi faceva più ridere in assoluto con Vianello che faceva il giornalista e andava a trovare questo boscaiolo Tognazzi che stava tagliando un tronco anzi un troncio come diceva lui Vianello diceva ma vedo che lei sta tagliando questo tronco troncio faceva lui troncio ma come troncio si dice tronco no noi qui diciamo troncio e che cosa cosa fate con queste con questo troncio alla fine si arrendeva Vianello stuzzicadenti diceva Tognazzi ah sì stuzzicadenti però bravi e quanti stuzzicadenti fate uno 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 solo cioè da un tronco enorme quello faceva uno però ho fatto bene capito a proposito di attori poi tornerò a chiederti qualcosa di Tognazzi ma torno indietro di qualche domanda ad un certo punto mi hai detto che Gasman e tuo padre non si vedevano molto però io penso che hanno fatto quasi 20 film e quindi a un sommario calcolo hanno passato giorno dopo giorno almeno 5 anni della loro vita insieme cioè alla fine per un cineasta per un regista per un attore la vita reale è una parentesi tra un film e l'altro bravo e si sono visti appunto se calcoli si sono visti dal perché il primo film è stato Il mattatore l'ultimo Tolgo il disturbo addirittura l'ultimissimo fu una pubblicità in cui lui quasi regredito a una tenerezza infantile chiedeva era molto impressionato da quella cosa veramente che cosa cosa disse Vittorio Vittorio che recitava a memoria una pagina nel Corriere della Sera dopo averla letta una volta aveva una memoria prodigiosa era veramente un genio faceva questa pubblicità con un neonato con un bambino quindi lui vecchio e questo neonato la pubblicità credo fosse di una banca non so cosa e non ricordava non ricordava bene e alla fine della giornata papà lo incoraggiava naturalmente tutta la fine della giornata questa è la cosa che mi ha detto mio padre gli chiese come sono andato quindi capito dal 57 58 quando era il mattatore che era figlio di quella trasmissione televisiva che faceva Garsman fino appunto al 2000 perché credo che fosse proprio del 2000 poco prima che Garsman morisse si sono visti cioè si sono visti sempre si sono visti crescere invecchiare amarsi odiarsi perché poi si sono anche odiati a un certo punto violentemente ma poi si sono ripresi come un rapporto che comincia avanza e non finisce mai poi invece finisce c'è la morte di Vittorio Garsman gliel'ho data io a mio padre gli hai raccontato tu sì me lo ricordo dove eravate? lui era Salzo Maggiore che stava girando una cosa che producevamo noi io e Maurizio Tedesco con la nostra società che si chiamava Sorpasso e e lui era lì che girava e il pomeriggio quando sapevo più o meno che stava per finire lo chiamai e gli diedi questa notizia e beh lì è stato un momento ma lui lui non ha mai manifestato però ho sentito in quel silenzio in quell'attimo di di pausa proprio una ho sentito proprio il vuoto ho sentito come se fosse mancata una parte di sé sai hanno fatto 16 film io ho fatto 16 film ad oggi in tutto e sono oramai un vecchio quasi e lui ne ha fatti 16 soltanto con gasman pensare che gasman se sordi non avesse detto no non avrebbe fatto il sorpasso com'era la frase meravigliosa di sordi che in omaggio alla sintesi che tuo padre amava tanto disse io l'ho capito il film ho capito io mi faccio un culo così per tutto il film poi tutto il merito e solo via quell'altro quell'altro è Trentignano è una sintesi perfetta però lui si è mangiato le mani fino al gomito per tanti anni sordi per non aver fatto quel film beh insomma tu non l'hai visto perché non sei così attento però entrando in questa casa in cui stiamo facendo l'intervista ci sono ben due manifesti del sorpasso se sarai molto buono alla fine te le regalerò uno che non hai uno non ce l'hai di questi due no ma non te ne priverei mai però sì e Gasman sì Gasman sordi una volta che io ho amato molto col quale ho lavorato anche in due film con Carlo Vanzina che era primo aiuto e io secondo in polvere di stelle finché c'è guerra c'è speranza mi disse ma non sai che mi piacerebbe fare un altro film con tuo padre e io glielo dissi sai che Sordi mi ha detto eh dice sì ma magari se capita perché lui insomma ha fatto uno dei film più belli di mio padre è forse il più bel film di Sordi Una vita difficile è forse il più bel film di Sordi è un film incredibile è un film molto bello è un film molto bello è un film in cui chi racconta la storia ha la perfetta cognizione di quanto siamo miserabili alla fine non si salva nessuno neanche il Magnozzi nella sua catarsi finale sì anche sì quando quando sembra che finalmente sia diventato sì un film straordinario un film straordinario però è un film che ci schiaccia alle nostre responsabilità e non rende impossibile diciamo uno sguardo ottimistico era il film preferito di D'Alema era il film preferito di D'Alema sì forse perché è un film cattivo eh tu sei cattivo adesso ed era anche il film preferito di Giovanni Minoli sì io una volta scrissi una cosa cattiva però su questo che non dirò adesso su questa cosa sul fatto che fosse il suo film preferito ma era anche il tuo film preferito o il Gauss il tuo film preferito? no 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 a me piace moltissimo ma a me piace forse sarà banale ma forse il sorpasso lo metto davanti a tutti perché c'è proprio un affetto enorme per quel film perché vedo vedo le due facce anche di mio padre forse no vedo Garzman e vedo Trentignan forse il mio padre è più Trentignan di Garzman la gente pensava che no ma invece quella fragilità quella debolezza quella quella delicatezza che non si vedeva il mio padre c'era e come e a me piace vederla in Trentignan che fra l'altro era convinto di aver fatto un film drammatico e aveva ragione aveva totalmente ragione è un film molto più drammatico che Ilare però se tu se tu mi dovessi chiedere qual è il film della commedia all'italiana che tu metteresti in cima a tutti quanti io ti direi forse il sorpasso beh perché la commedia all'italiana come mi insegni tu parte dal dramma insomma l'assunto di ogni film della commedia all'italiana che si rispetti parte dal dramma se ci pensi la grande guerra ma anche i soliti ignoti appunto il sorpasso una vita difficile sono e quella è una cosa che un po' manca oggi è che secondo me ce ne sarebbero di argomenti da trattare in quel modo che poi non c'è niente di più comico dell'infelicità come disse Beckett bravo è una gara dici se sembriamo quei due che ne l'ha messo infinito di Moretti al corso prematrimoniale dicono questa chi la sa dice chi guida il corso c'è quello più anziano di 30 anni di tutti gli altri che alza sempre la mano e dice dice io senti tu a 18 anni sempre per tornare a 68 che sogni avevi? queste sono le domande che si farebbero in pallidire Marzullo alle quali non si sa che risponde che sogni avevo? sì non devono essere per forza grandi utopie potevi sognare una spider sì e una fidanzata sì io non vedevo l'ora di diventare grande a 18 anni già era una bella conquista perché avevi la patente ti davano la patente quando sono diventato grande io poi a 18 anni ancora non eri maggiorenne perché non potevi votare ancora a 18 anni nel 69 dove è arrivata la cosa? il 73 mi sembra chi lo sa che cosa volevo? sa che non mi ricordo non è che avessi tutte queste che sogni anche perché sognavo quello che sognavo non me lo ricordavo non me lo ricordo neanche adesso non me lo ricordo mai quasi mai anni felici gli anni 80? no non particolarmente però ecco nell'82 ho fatto il mio primo film quindi sì sì da un certo punto di vista sì non è che gli anni 80 sono ricordati come anni meravigliosi gli anni felici sono stati gli anni 60 60 vabbè meravigliosi meravigliosi proprio sento il sapore ecco ogni tanto in casa quando mi faccio un bagno metto metto tutta c'è una raccolta di quelle canzoni lì degli anni 60 e e quando arriva soprattutto Sapore di Sale c'è quasi una commozione perché quell'inizio lì con quel basso e chi l'ha fatto? Morricone bravo Sapore di Sale è un capolavoro assoluto è vero però ci sono 4-5 canzoni di quell'epoca a parte che nella musica italiana contemporanea se tu togli Conte De Gregori dal non lo so Venditti Vecchioni Bennato me ne vengono in mente Fossati e c'è Paolo Conte ovviamente straordinario eccetera chiunque ha scritto almeno una canzone anche Ferradini ha scritto una canzone cioè chiunque Baglioni ovviamente ha scritto decine insomma ci sono dei noi abbiamo avuto dei cantatori Battisti stavamo dimenticando Battisti però se tu prendi Riccardo del Turco come no? Luglio col bene che ti voglio ma scusa ma non è un capolavoro Luglio? è la prima allora adesso ti racconto una cosa perché Luglio chi l'ha scritta e gliel'ha regalata perché in quel momento Riccardo del Turco non ce la passava bene Bigazzi Bigazzi era uno che a Sanremo si sentiva continuamente il nome di Bigazzi e un altro abbinati perché aveva fatto mille canzoni Bigazzi fece la musica del mio film Mary per sempre e fece anche la musica del mio secondo tuo Mary per sempre Ragazzi fuori e lì gli avevo chiesto di fare una musica un po' più etnica e lui si divertiva molto a questa cosa ah vuoi la musica etnica perché lui era toscana vuoi la musica etnica a lui gli piacciono le melodie di più ebbè di così dai è diverso questo è un film diverso è un film più rhapsodico è un film più non è così tradizionale facciamo una cosa un po' più infatti mi ricordo a Palermo quando abbiamo visto la prima del film uno del pubblico mi è che siamo in Arabia perché cominciava e a un certo punto c'era l'inseguimento questo inseguimento di King Kong con il poliziotto che lo insegue e dura quell'inseguimento dura tipo 5 minuti e me l'hanno anche rimproverato che era troppo lungo io invece volevo farlo forse ancora più lungo incalzava la musica cominciava più e faceva e poi aumentava e poi mi disse Bigazzi ti sei accorto che cos'è? dico no che cos'è? è luglio vabbè fantastico non è che ti voglio praticamente era è bellissima l'idea che il luglio ti faccio una promessa e l'amore tornerà ecco e la cosa bella è che il figlio che aveva all'epoca tipo 8-9 anni Giovannino si è messo per un giorno intero anzi 2 eravamo andati io ero andato a trovarlo a puntala a cantargli la canzone e gli faceva babbo babbino babbo babbo babbino babbo babbo babbino babbo ba e i ragazzi Giancarlo bravo bravo Giovannino bravo bravo adesso basta però e lui babbo babbino è andato avanti tutto il giorno noi siamo entrati in acqua a un certo punto lui dentro è venuto in acqua babbo basta basta l'ha preso e l'ha cercato di annegarlo il figlio lo voleva annegare che erano tempi tempi selvaggi succedevano delle cose succedevano delle cose anche tra che simpatico che erano bigazzi ma ci sono più quei tipi così simpatici come un caffè no ma tu non bevi caffè no mi fa mi agita tu non vuoi essere agitato mazza no io vorrei non essere agitato ma mi sono sempre agitato perché sei sempre agitato te lo posso chiedere è perché mi agito ti agito i pensieri sì soprattutto soprattutto i pensieri sì i pensieri ma poi si è uno stato continuo di salute mentale l'agitazione mia riesci a dormire bene? no no adesso no c'è stato un tempo in cui dicevi mi invitavano alle prime le feste iniziavano alle 11 ma io alle 11 già dormo invece non è più vero non è più così ma non esco comunque non è che vado alle feste perché dormo poco no certo però dormi poco adesso sì dormo poco dormo male mi sveglio tipo a luna mi addormento magari alle 9 e mezza sul divano e mi sveglio alle 11 e poi vado a letto mezzanotte leggo calcola che mi sto rileggendo dopo un mese l'avevo finito un mese fa me lo sto rileggendo La montagna incantata di Thomas Mann certo certo ma è un po' una follia però mi piace molto quella roba lì mi piace quel mondo a me piacciono cioè i libri film anche ma anche i libri questo è un libro perfetto per me perché mi piace la neve mi piace la montagna anche soprattutto quando c'è la neve e mi piacciono i posti chiusi cosa meglio di un sanatorio a Davos a 1500 metri d'altezza quando poi ci sono anche delle grandi nevicate uno che a un certo punto lui Hans Castorp che si perde nella neve che rischia di morire ci sono delle cose meravigliose vediamo la ricerca ne hai letto? ecco quello dovrei forse ma non l'ho mai letto però sono anche libri che uno dice appunto dovrei dovrei poi non li leggo mai e l'uomo senza qualità ne hai letto? anche un altro lì che inizia con tutta la ragione molto faticoso è inizio è terribile ti chiede una prova di non ce la faccio però forse sì forse sarà il mio prossimo impegno perché adesso ho scoperto questa cosa che tutti detestano e io no che si chiama Kindle ah tu non ti dispiace? no non mi dispiace per niente perché intanto ho la casa piena di libri e non riesco più a metterli da nessuna parte perché continuano anche a regalarmeli e e c'ho la cantina anche piena di libri e quindi questa cosa qui che è una cosa neanche sottile neanche arriva a un centimetro e dentro ci stanno milioni di pagine mi sembra una cosa meravigliosa ti sei divertito a scrivere il tuo libro? sì anche anche è stato faticoso? no è faticoso le fatiche sono altre è stato interessante molto perché in certi momenti io l'ho scritto in tanto tempo ci ho messo 5-6 anni e vivere è faticoso? eh? vivere è faticoso vivere intendo intendendo per vivere tutti quelli che sono gli obblighi sociali le interviste da fare gli amici che si offendono se non li chiami le fidanzate no io in realtà sono sempre più solo perché non è una bella cosa eh? cioè non è detto poi non lo so insomma non so se mi piacciono gli altri certe volte sì alcuni perché sono abbastanza curioso poi questo lavoro che faccio ha a che fare molto con gli altri no? poi non puoi prescindere dagli altri però me le immagino siccome sono arrivato ad un'età in cui posso capire come sono le persone anche da un'occhiata e questa mia sensibilità viene da da lontano da quel periodo difficile in cui con uno sguardo capivo i drammi o le felicità di quella persona felicità molto poche drammi anche piccoli quotidiani di casa di uscire per andare appunto a prendere magari il figlio a scuola e vedevi negli occhi quella cosa lì quel sentimento che ti portava da una parte e ti faceva anche soffrire quindi per quella roba lì io cioè quando c'è stata la pandemia io sono stato felicissimo tutti chiusi in casa per me era la condizione ideale pur essendo anche socievole quando esco e mi capita per esempio vado al mercato sono amico della fruttivendola di quella del pane e mi diverto molto con loro oppure vado una sera decido di uscire andare a una festa di qualcuno però poi alla fine beh preferisco star solo ecco ma ti voglio chiedere se questa non è anche una forma di egoismo tuo padre diceva Gasman non ci pensare tu riesci perfettamente a interagire col panettiere col fruttivendolo perché sai che comunque è un rapporto effimero quotidiano di scambio ma quando l'amico o l'amica o qualcuno ti parla del proprio dolore ti richiede in qualche modo un impegno e ti getta nel lagone e ti chiede di interessarti di lui in maniera in maniera non superficiale è un grande lavoro grande paura grande paura grande lavoro grande impegno a me è successo anche recentemente fino alle estreme conseguenze con mio cugino il mio adorato cugino Andrea che a un certo punto si è ammalato e nell'arco di otto mesi se n'è andato insomma lì e tu sei fuggito di fronte a questo no no ci sei stato sì ma lui era un altro ecco come il cugino di cui si parlava prima di Hans Castor Joachim era un altro di quella generazione più grande di me di sette anni però uno abituato a un certo tipo di rapporti per cui non chiedeva non voleva non cercava aiutami attenzione cose ma era una cosa che veniva naturale anzi era tutto molto sotto traccia per cui forse mi veniva anche più facile invece mi capita magari di essere più duro con chi con chi chiede perché non si fa non si fa non si fa cioè se non chiedi bisogna capirlo se qualcuno ecco bisogna capirlo però tu che leggi così in profondità da uno sguardo anche l'angoscia altrui appunto sai che ci sarebbe tanto bisogno sì ma capisco però se è sincero o no capisci se è sincero o no certo se è un gioco sterile ma poi non è che ha tutte queste richieste di attenzione e ne dai a tua volta ti è mai capitato di chiamare un amico di fare di dire quella cosa insopportabile che dicono che ogni tanto ti piove addosso come un incudine eh non mi vuoi più bene eh non mi pensi mai no solo per gioco solo per gioco per gioco per scherzo no no per si fa quello eh non mi chiami più eh o con i miei figli magari non mi chiami eh i figli fuggono lo sappiamo però sono anche attenti certe volte capiscono cioè la stessa cosa che succedeva con mio padre anche lui si lamentava che non lo chiamava abbastanza ti chiamo sempre io eh è una cosa è una cosa che effettivamente ai figli succede di chiamare sempre meno ma non ha niente a che vedere secondo me con l'affetto reale no però però effettivamente è una forma di pigrizza in cui poi un giorno uno ti dice guarda tuo padre o tua madre non ci sono più e tu allora puoi accendere l'interruttore del rimpianto no? ah ma se avessi se ah se si io ci sono delle cose però lo sai come quando fumi una sigaretta lo sai che ti fa male cioè lo sai che stai sbagliando in quel momento di disattenzione eppure la vita ti porta lontano lo sai qual è l'età più bella? diceva no? Bruno quella che uno c'ha giorno per giorno tu che età ti senti? senti un po' ragazzino un po' fuori mi piacerebbe dire quella cosa che no mi sento ancora ragazzino però comincio a sentire alcuni acciacchi che l'età porta però non so se è proprio così ecco non mi sento più tanto ragazzino cioè guardo le cose con un distacco maggiore guardo le cose con un entusiasmo diverso guardo le cose con un cinismo più attento e non essendo mai stato un vero giovane io neanche a 15 anni ma neanche a 11 mio padre mi chiamava il vecchietto o il pensatore che la cosa mi riempiva abbastanza di orgoglio perché beh detto da lui che è un uomo intelligente mi fa piacere questa cosa il pensatore ogni tanto anche mi atteggiavo a pensatore magari non pensavo un cazzo però per fargli per farlo contento così lui mi notava ma ti era simpatico Berlusconi o no? ma alla fine era un eroe talmente da commedia italiana che in qualche modo mi divertiva mi affascinava cioè tutto quell'odio che la sinistra ha vomitato su Berlusconi io in realtà io ho fatto sono stato uno di quelli più criticati anzi più osteggiati ho pagato anche per quello per quel filmino no? che abbiamo fatto con Nanni Moretti Marco Tullio Martone tutti quanti praticamente anti Berlusconi perché Previti mi ricordo che andò al cinema con la Palombelli e quando vide il mio episodio disse ah no eh tutto ma Berlusconi pedofilo no ma la pedofilia non c'entrava proprio niente l'ha voluta vedere lui che aveva quel problema probabilmente Previti era uno Silvio Orlando che fuori da una scuola guardava tutti i bambini che uscirono da quella scuola e ne vedeva uno diverso dagli altri perché tutti erano vestiti nello stesso modo erano lo stesso zainetto la stessa cosa incontravano persone in strada lui seguiva questo bambino le persone per strada erano vestite come Berlusconi erano tutti diventati tutti Berlusconiani quello a me un po' un bel po' disturbava che improvvisamente bisognava essere bisognava quella parte lì certo non quella che noi pensavamo di essere la stessa prefigurazione di essere John Malkovich non mi pare che c'entrasse appunto e allora però finì così che la Palombelli scrisse quest'articolo in cui e poi mi ricordo che c'erano anche dei lavori che forse avrei potuto fare non so con Medusa Mediaset che invece non sono mai passati non so se c'entrasse questo non me l'hanno mai detto ma qualcuno me l'ha spifferato sai che paradosso il meno politico dei nostri registi con l'anatema che ha fatto quello più infastidente li ha disturbati molto quell'episodio lì ma insomma chi se ne frega a me interessava farlo era venuto anche bene era bello era venuto bene Silvio Orlando era bravissimo lo avvicinava questo bambino che cercava di scappare sotto un ponte con un fuoco acceso un barbone da una parte e gli sussurrava no no non ti voglio fare niente non ti voglio fare del male fermati il bambino si fermava lo guardava un po' terrorizzato e lui gli sussurrava all'orecchio forza Italia e il bambino si spaventava forza Italia certo perché era la prima volta che veniva venuta fuori questa formula quella mi ha dato un po' fastidio ecco forza Italia che non si potesse più gridare forza Italia allo stadio per la nazionale o gli azzurri o quella roba lì che lui se ne fosse appropriata così non mi piaceva beh insomma era un'altra incredibile trovata di marketing mamma mia che avevano già provato prima quando avevano scritto forza Italia per esempio se avessi dato il marketing del tuo film che aveva solo il difetto di essere arrivato con un ventennio d'anticio per l'ultimo capodanno tratto da da fango di Niccolò Amaniti forse il film sarebbe andato bene no? finché vede l'esordio di Marchio Giallini che vede Monica Bellucci tanti bravi attori italiani su un testo magnifico è il tuo rimpianto cinematografico quel film lì? sì all'epoca sì tantissimo però adesso per esempio è diventato una specie di film culto sì è vero è vero cioè molti me ne parlano molti mi dicono che è il mio film migliore ti sei d'accordo con questo? assurdo no non lo so io non do giudizi il primo secondo terzo mio figlio Tano ha detto una cosa abbastanza interessante ha detto è l'ultimo capodanno è il film cult Mary per sempre Mary per sempre il tuo film più famoso e Fortapace il tuo film più bello il muro di gomma no? no non l'ha messo mi è piaciuto molto l'ho rivisto l'altra sera eh l'hai rivisto l'ho rivisto l'altra sera chi ci paga a noi Ammiraglio chi ci paga? chi ci paga è molto bello posso dirti Regge Regge allora è impreziosito da due cose secondo me dal fatto che è quasi un film coevo agli eventi ci sono passati solo 11 anni e quindi è 10 quando l'abbiamo girato 10 quando l'avete girato quindi è un film che che preconizza la verità in maniera incredibile quando ancora la verità non è sul sul piatto quindi è un merito storico se tu lo giri nel 2010 o nel 2020 è diverso sì ma non è cambiato neanche così tanto no infatti c'è l'intuizione di quello che è accaduto e lo capisci benissimo poi ci sono le musiche di Gregori magnifiche poi c'è Corso che è un super attore il film funziona molto bene secondo me è anche molto ben scritto no era bello un muro di gomma sembra un bellissimo film bellissimo con un'emozione vera alla fine quando lui detta d'articolo dalla cabina lì e lui si è guadagnato il ruolo perché nel provino lui ha fatto quel provino mi ha detto che quella scena è stata infernale la pioggia che riuscivi a girare la pioggia no in realtà volevo un effetto che in parte c'è ma non era come quello che immaginavo perché quello era meraviglioso era bellissimo nel film a sangue freddo c'era l'attore c'era l'attore l'assassino che a un certo punto si avvicinava a una finestra era notte c'erano le gocce di pioggia sul vetro di questa finestra e c'era una goccia che gli segnava l'ombra di una goccia che gli segnava la guancia come se fosse una lacrima perché lui in realtà non dava l'idea di essere pentito però quella cosa lì rimaneva era forte era una bella immagine quindi ho cercato di copiarla ma non è venuta bene come l'originale invecchiare è una fregatura? sì ma lo è? ma sì non smitizziamo questa cosa che invecchiare è bello che uno poi ha gli anni che si sente non è vero balle invecchiare non è per niente bello perché cominciano anche gli acciacchi cominciano i dolori cominciano le cose di cui non ti accorgevi prima capito? fai più fatica c'è più affanno io vado spesso in un ristorantino a mangiare vicino a casa dove c'è uno che è quasi mio coetaneo a qualche anno di più e vado in questo ristorante lui è tutte le sere lì mangia tutte le sere lì ed è anche simpatico assomiglia a Vito Ciancimino io glielo ho detto dico tu se dovessi fare un film su Vito Ciancimino lui lo sapeva chi era Vito Ciancimino sì ma lui è un uomo colto sai chi mangiava sempre da solo anziché due sia manganelli che gadda mangiavano sempre da solo ah sì sempre tutti e due anche Germi anche Germi mangiava da solo bravissimo Germi lo incontravamo lì come un papà mi ricordo alla scala e lui era lì con il suo sigara ti piacevano i film di Germi? moltissimo un uomo solo anche lui sì molto solo difficile un uomo molto difficile mi ricordo che si salutavano con papà lui chiese a papà di fare un film va bene se va per finire con gli acciai ecco Germi per esempio non so a che età è morto non credo fosse contento di invecchiare poi quando fai questo mestiere oddio ti tiene sempre abbastanza vivo perché è un mestiere che devi fare con attenzione quando sei sul set è una cosa che ti dà veramente grande emozione gioia è bello farlo anche perché hai rapporti con tantissima gente e non devi mostrare debolezze perché se ne accorgono sentono l'odore sentono l'odore sentono l'odore del sangue ma dal primo film deve essere così perché se si accorgono che sei fragile non passi le maestranze i macchinisti gli elettricisti se ne accorgono subito e ti vogliono bene o no ma anche se sei magari duro con loro ma sei giusto perché capiscono che stai facendo una cosa interessante e giusta ti vogliono bene è sempre più difficile perché oramai si fa questo mestiere e se ne fa tanto perché forse si fanno no forse sicuramente si fanno meno film di una volta ma si lavora molto di più nel senso che i macchinisti gli elettricisti lavorano tantissimo perché si fanno serie tantissime serie tantissimi film corti documentari per cui c'è lavoro c'è tanto lavoro e quindi una cosa vale l'altra però ogni tanto succede che quella cosa lì che stai facendo ti accorgi che vale un po' di più non solo per te ma anche per gli altri ti è successo con Fort Apache ti è successo quando hai girato alcuni film sì e poi mi è capitato appunto di lavorare con Marco Onorato che era il direttore della fotografia mio ma addirittura prima di quasi suo figlio perché era come se fosse suo figlio Matteo Garrone e lui cioè la troupe dipende molto dal direttore della fotografia quindi è stata una cosa bellissima ma mi è capitato anche adesso con l'ultimo film che ho fatto questo qui sui vecchi il punto di ruggiata che c'era una troupe attenta insomma erano talmente attenti che mi ha cascato un parco lampada in testa una volta cioè il capo macchinista aveva messo queste lampade inquadrata inquadrata con i tubi innocenti però quelli leggeri per fortuna e mentre stavano sistemando questa roba qui a un certo punto mi è cascato in testa e mi ha spaccato la testa col sangue per un attimo ho pensato di morire beh sarebbe stato un finale glorioso no su Seth però non ancora non aveva finito il film e stavamo alla seconda settimana capito ti capita mai di lasciare un set con la stessa battuta memorabile di Gasman no passata una bellissima serata ma non era questa no no magari no magari un cavolo no perché vorrebbe dire che è stata un'avventura brutta no sono sempre belle quelle avventure lì dei film in genere sono ancora più belle quando sono fuori fuori da Roma dal circondario però anche a Roma è una bella avventura ogni volta è un'avventura che la gente non sa non conosce bene pensa che sia una cosa sempre così glamour divertente ma insomma succedono cose io per esempio ho cambiato la vita a un mio aiuto regista due volte la prima volta l'ho portata in Kenya e si è sposata diventando musulmano una ragazza che stava lì 15 anni dopo è venuto con me in Argentina a fare il film su Maradona e ha lasciato la musulmana si è messo con un'argentina che ha sposato dalla quale ha avuto due figli ma questo non è il suo film non è il film è la sua indole è il rabonda però gli ho cambiato la vita facendo due film tu gli hai cambiato la vita certo devo dire che il Contenere era molto divertente raccontava delle cose e io questa la voglio chiamare Democrazia Sparafico Sparafico era ispirato a un vero no? beh personaggio vero e gliel'hanno fatta vedere al personaggio vero quella scena lì e il personaggio vero si riconobbe? eh si declinò la cosa un po' trattandola così Cerrapico Cerrapico certo Giuseppe Cerrapico editore te la faccio togliere una stella da quest'albergo eh così diceva Sparafico senti è bella è una fantasia raccontava un film che raccontava la storia degli italiani spiaggiati a Malindi e delle loro come dire c'era un Anna Falchi bellissima e molto giovane all'epoca Antetetta questo non so se si può dire Antetetta ci saltano addosso ma un Anna Falchi molto giovane e sempre Corso c'era Corso il secondo film di Corso c'era sempre Corso e l'inizio era un po' ispirato a riuscire erano i nostri eroi vagamente sì l'inizio era una cosa a Roma di lui che era una cosa divertente aveva inventato un sistema nuovo di telefono all'epoca non c'erano ancora i telefonini le cose però per chi magari non vedeva bene formava un numero denunciandolo adesso proveremo a chiamare diceva Corso proveremo a chiamare casa mia allora basta che io faccia dica il numero 06 80 28 41 risponde la madre dice mamma sono qui ah ciao ti volevo dire una cosa no ma adesso sono qui ti volevo dire una cosa che è morto papà non lo ricordo non lo ricordo papà che non vedevano da anni perché stava in Kenya stava in Kenya ha lasciato la famiglia stava in Kenya era molto bello quanto quanto la pagasti la canzone di Elton John ah beh un po' però all'epoca si poteva fare tutta Your Song tutta intera sul corso che attraversa la città come no sì tutta intera tutta intera tutta intera mi faceva ridere Corso che infilzava no Corso Abba D'Antonio che infilzava delle sogliore col coltello all'alba e poi le gettava sulla sabbia e le sogliore saltavano da una parte all'altra e diceva vedi già panate è un bravo attore Diego sì sottovalutato beh c'era Gasman che diceva di Diego che era il suo erede pensate quindi sottovalutato mica tanto Gasman diceva anche che tra i Gasman e i Risi vincevano sempre i Gasman sì perché lo diceva eh perché successe una cosa successe che Chicca Francesca D'Aloia che era fidanzata con Alessandro Gasman quindi aveva vissuto molti anni anche lì con con Vittorio Gasman di cui era innamorata secondo me più che di Alessandro no esagero ma insomma è successo che poi invece si innamorò di me e e quindi ha lasciato Alessandro e quando successe questa cosa Vittorio convocò Chicca Vittorio ci rimase male convocò Chicca e le disse che non andava bene questa cosa che gli dispiaceva quella e poi comunque ricordati una cosa che fra i Risi e i Gasman hanno sempre vinto i Gasman senti ma e io la dissi a mio padre dice ma sai che Vittorio ha detto che fra i Risi e i Gasman hanno sempre vinto i Gasman lui si è fatto una bella risata e poi ha detto ma non è vero tuo padre ti diceva anche ma questo mi sembra che tu lo abbia seguito assecondato non scoleggiare sì intendeva dire non avere un empito pedagogico quando fai i tuoi film non vuole lasciare sì ma in realtà era più riferito a certi atteggiamenti di vita così quotidiana di Ettore Scola miei tuoi che potevano assomigliare a quelli di Ettore Scola cioè un modo di ridere un modo di avere una parte di impegno secondo lui un po' costruita capito di schierarsi per una parte a prescindere ti piaceva Scola come regista? mi piaceva molto anche come regista ma anche come persona gli volevo bene gli volevi bene ci siamo visti poi alla fine ogni tanto ci siamo visti lui mi ha fatto mi ha nominato stand by per il suo ultimo film stand by spieghiamo cos'è sì spieghiamolo beh quando sei sei un po' grandino con gli anni così che non stai con una salute di ferro ti obbligano a mettere una clausola per cui indichi qualcuno che possa prendere il tuo posto se dovessero andare male le faccende terribile peggio di una nuda proprietà eh sì è una cosa che prefigura la morte in maniera molto netta eh già pensati ma è veramente qualcosa di sinistro per fortuna non è successo no non è successo ma non succede mai perché quando gira è difficile che succeda tu sei in un'età pur essendo diciamo peccato che questo podcast sia solo audio perché non facciamo vedere che Marco Risi è ancora un ragazzo uno splendido uno splendido settantenne ma sei in un'età in cui in cui hai visto alcuni dei tuoi amici salutare il mondo penso a Carlo Vanzina per esempio compagno di scorribande adolescenziali post-adolescenziali sei persona in cui riuscivi a vedere anche tre film al giorno nelle sale dell'epoca ecco cos'è l'assenza la mancanza per te la mancanza di qualcuno che ha una presenza emotiva ma ci penso ci penso ci penso ci penso ci penso tanto a Carlo ma appunto anche a Marco Onorato una delle ragioni per cui faccio i film meno volentieri è l'assenza di Marco Onorato perché era veramente un compagno di viaggio meraviglioso Carlo Carlo alla fine non ci vedevamo più tanto ci vedevamo meno ma ci vedevamo ma ci sentivamo sempre tanto come un fratello forse anche più di un fratello perché io siamo cresciuti insieme io poi devo moltissimo a Carlo molto veramente molto cioè se io ho fatto il mio primo film da regista lo devo a lui e mica a mio padre perché lui stava preparando eccezionale veramente e mi disse invece di stare lì a casa a fare quello che critica tutto e tutti perché io ero un po' perché non mi vieni a dare una mano e mi fai d'aiuto regista e io andai feci il suo aiuto regista dopodiché subito dopo Carlo che aveva scritto un soggetto insieme a Enrico che si chiamava Vado a Vivere da Solo me l'hanno me l'hanno affidato a me insomma me l'hanno me l'hanno dato a lui quindi lui mi ha chiamato quella volta lui mi ha chiamato come assistente alla regia perché lui era aiuto regista di sordi in polvere di stelle quindi veramente dove sordi si dilettava a fare scherzi mamma mia raccontamene uno se puoi beh proprio a Carlo Vanzino è proprio a Carlo Vanzino mamma mia mamma mia che mascalzone simpatica faceva molto ridere come era questo scherzo lo scherzo era che 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 vabbè a polvere di stelle c'era un sacco di gente era veramente era una fatica enorme quel film soprattutto per Carlo che era l'aiuto regista c'erano minimo venti persone in scena tutti i giorni e poi mille comparse al Petruzzelli per dire al teatro Petruzzelli c'erano mille comparse e Carlo era in grande agitazione perché bisogna gestirla tutta questa roba qui e lui lo chiamava tipo a luna di notte facendogli la voce del batterista Corbisiero ancora mi ricordo il nome il batterista del gruppo di polvere di stelle e gli diceva pronto Carlo sono Corbisiero e Carlo dice ma che Corbisiero ma sono le due di notte ma che fai mi chiami e lo so guarda mi devi scusare ma mi è arrivata una proposta che non posso rifiutare domani c'è un concerto ad Afragola e io devo andare perché devo assolutamente partecipare non posso dire di no ma che sei matto domani abbiamo tutta la scena lì al teatro con mille comparse non puoi andare e lo so mi dispiace mi devi scusare Carlo poi attaccava la mattina sul set veniva da me e lui dice guardalo guarda arrivava c'era Carlo guardalo guarda non ha dormito tutta la notte ma che è successo e gli ho fatto uno scherzo ho fatto la voce di Corbisiero beh stupendo ma forse per tornare la domanda di prima la nostalgia non è altro che la constatazione che ci si riverti di meno ma io questo lo dico anche cioè dico una cosa che non si riprende ogni tanto dice vabbè mi ricordo un articolo di tanti anni fa proprio su Repubblica di Benemino Placido che diceva una cosa che all'epoca mi sembrava giusta eravamo negli anni 80 cioè basta con questa cosa di dire che prima era meglio le cose qua e là si dice questo perché prima eravamo più giovani e vivevamo le cose da giovani ci piaceva tutto quanto di più adesso abbiamo nostalgia di quella roba lì per cui diciamo che e allora all'epoca pensai sì sì mi sa che hai ragione invece adesso ripercorrendo tutto quanto vedendo quello che è successo e ricordando le cose e lo dico anche nel libro dici era meglio prima? sì era meglio prima cioè a me mi mancano molto di più le persone che non ci sono di quelle che ci sono cioè mi divertivo molto di più con quelle che non ci sono a partire da mio padre e da quelle che abbiamo appena nominato che stando con quelli che ancora sono qui qualcuno si offenderà ma non me ne frega niente ma è molto era molto più cioè succedevano a parte il cinema che il cinema era molto più bello all'epoca e oggettivamente era più bello adesso non dirò una cosa e dirla no non la posso dire perché mi sono ripromesso di non dirla e lui mi ha detto che non dovevo più parlare di lui ma se devi mettere un film come otto e mezzo vicino a un altro film insomma ti accorgi che c'è veramente un abisso c'è veramente sì un abisso ma quello era un genio capito? Fellini era veramente un genio e poi però c'era anche De Sica e De Sica era un altro genio però diverso un genio che ti faceva piangere Fellini raramente ti faceva piangere però ti comunicava credo che Fellini sia stato il più grande artista del novecento quale regista italiano di oggi che ti piace di più? Matteo Garrone Matteo Garrone sì e poi quando vidi lui mi fece vedere non so neanche bene perché mi fece vedere Gomorra in una proiezione lì al al Politecnico ero da solo mi ricordo l'impressione quando uscì da quella perché sembrava veramente di stare in guerra cioè ha fatto un film pazzesco pazzesco Gomorra è un film bellissimo che racconti quella roba lì è una delle cose più belle che si potessero fare come l'ha fatto come è riuscito a raccontarla quella roba là cos'è che ti fa ancora sorprendere? cosa che mi sorprende? oltre ad aver resistito un'ora e mezza a fare un'intervista i bambini sì i bambini sono una cosa che mi mi sorprendono perché sono ancora quelli che non si sono già guastati insomma fino ai 4, 5, 6 anni non ti viene in sospetto che questo accada perché in fondo non sei mai cresciuto no no sono cresciuto purtroppo ma mi ricordo in quel periodo in cui si soffrivo un po' l'unica cosa che mi dava un certo piacere erano i bambini cioè con loro sentivo che c'era sincerità con gli adulti invece no con gli adulti è più difficile c'era l'innocenza che dopo il sorpasso non ci fu più no di cui il sorpasso raccontava la fine in qualche modo il sorpasso segna una bella una bella frontiera un bel confine cioè fino al 62 diciamo che erano gli anni dell'innocenza e con la morte di Trentignan è come se morisse l'epoca dell'innocenza per dar vita all'era della sopraffazione dell'arrivismo del della cattiveria quasi beh Mario Cecchigori non lo voleva per il finale no Mario Cecchigori era forse più da produttore più per un finale accomodante bello allegro ma però il film era scritto così e doveva finire così però se avesse piovuto un giorno in più non si sarebbe girato quel finale lì veramente sarebbe finito in un altro modo forse anche Vittorio De Sica sarebbe stato contento perché? perché gli disse a papà dopo aver visto il film gli disse ma perché l'hai fatto morire? ma è certo era un finale molto anticonvenzionale no? nel senso che non c'era il lieto fine semplicemente e se chiedi a Scorsese ti dice che era strano quel finale anche lo dice in un'intervista proprio mi sembra lì quella cosa che ha fatto Fabrizio Corallo su papà e dice nella commedia all'italiana perché poi bene o male comunque è un film commedia all'italiana che muoia l'eroe buono e non il cattivo è un fatto rivoluzionario rivoluzionario clamoroso come ti piacerebbe essere ricordato tra trent'anni non come il figlio di Dino Risi come uno che nel suo piccolo qualche cosa è combinata no c'era stato il periodo in cui dicevo quando mi chiedevano questa cosa sempre no vedi tu anche ci sei cascato bene però nel finale quando mi chiedevano eh ma io vorrei essere ricordato non come il figlio di Dino Risi ma vorrei che si ricordasse Dino Risi come il padre di Marco molto presuntuosa e quindi questa me l'hanno fatta anche pagare c'era una giornalista che era innamorata di papà ancora me la ricordo sul paese sera che disse questo presuntuoso vabbè però perché è un po' come la storia delle battute che non si possono spiegare quando Scorsese viene da te a cena e ti dice che un suo professore di cinema gli aveva fatto studiare il sorpasso e gli aveva dimostrato come sull'Aurelia fosse disegnato un punto interrogativo e tu fingi di dargli retta poi questa cosa quando viene riportata come dichiarazione bisogna spiegare che non è vero perché altrimenti qualcuno finisce per crederci forse tu lo dicevi con grande ironia no è così aspetta finisce meglio cioè lui aveva questo professore che ha dimostrato secondo lui che il percorso che faceva la macchina formava un punto interrogativo io naturalmente il giorno dopo glielo ho detto a mio padre dico ma papà ma lo sai che il professore di cinema di Scorsese ha capito che il percorso che fa la macchina forma un punto interrogativo e lui mi disse oh finalmente qualcuno che se n'è accorto ecco io mi fermerei qui ma non si può perché ogni volta qualcuno mi dice ma è vero ma è vero ah formava un punto interrogativo ah lo vedi dico sì formava un punto interrogativo certo perché così sarebbe molto più interessante senti a proposito di terreni impraticabili hai definito l'amore un terreno impraticabile ci hai capito qualcosa a più di 70 anni no non si può capire no è difficile come diceva William Oden sì sono atti i momenti gli inizi sono sempre clamorosi belli infuocati meravigliosi poi non lo so l'amore poi se parliamo di quell'amore lì l'amore per per la donna no tu per lei e lei per te non lo so io sono sempre andato un po' con i piedi di piombo su quella roba cioè tu ce l'hai avuto questi inizi fulgoranti in cui hai promesso amore eterno per la vita o no sì ci sono arrivato vicinissimo in cui pensavo che sarebbe stata la cosa ma poi capivo subito dopo da certe cose da certi momenti che è così difficile poi andare d'accordo già è difficile andare d'accordo con se stessi andare d'accordo con un'altra persona quasi impossibile non è facile bisogna avere grande capacità di adattamento e e sì appunto piegarsi anche a certe cose che è anche giusto fare eri geloso tu ce l'avevi il senso all'epoca sì certe volte sì mi ricordo delle cose un po' di gelosia ma così per orgoglio perché la gelosia è anche un po' una forma di orgoglio mascherata non come per dire ah ma lei potrebbe preferire quello lì come se quello lì fosse meglio di me ma no non è possibile indubbiamente è così però è anche vero che Battiato ti dicevo diceva che il senso del possesso era per l'Alessandrino e quindi come dire è una storia vecchia come il mondo che bella e quindi è impossibile cioè l'amore eterno è impossibile ma c'è chi dice che ci sono coppie che resistono tutta la vita non lo so sì secondo me è impossibile avresti mai perdonato un tradimento? sì e quanti ne ho perdonati a lei hai perdonati? beh già questo è un sintomo di grandezza sì e e perché lo perdonavi? perché pensavi che in fondo la scopata non fosse niente di drammatico? beh perché forse sì appunto no che un momento come poteva capitare a me io ero più fedele tu eri più fedele? sì ero abbastanza fedele ma anche per evitare le rotture di goglione abbastanza che categoria è? no nel senso che non tradivo a meno che la fine verso la fine quando le cose cominciavano a scricchiolare allora capitava magari ma un indizio di pigrizia? questo qui sì anche di pigrizia per evitare le rotture di coglioni capito che lei se ne accorgi perché poi le donne se ne accorgono no? e ti martellano e quindi giustamente non mamma mia che paura che difficoltà mi ricordo con due donne mi è successo di queste cose che lì avrei dovuto capire scappare che aprivano la portiera della macchina mentre io stavo andando sull'autostrada a 100 all'ora dimmelo che se non mi butta ma che aia aia ho capito ma voglio dire sempre battiato il desiderio non invecchia quasi mai con l'età ma il desiderio c'è il desiderio c'è il desiderio c'è c'è la consapevolezza di non poter avere una storia no si può anche avere una storia ma bisogna vedere portata a quali termini a quali limiti quante volte sei stato innamorato veramente nella vita io l'ho chiesto pure a mio padre queste cose pensando che mi dicesse mai mi ha detto sempre sempre bellissima risposta ma non era vero secondo me non era vero non lo so secondo me tre volte lui più o meno io se ci penso beh sono stato innamorato una due tre quattro cinque sei cinque sei volte non sono poche non sono poche all'inizio molto poi dopo ecco ma circoscriviamo questo inizio quanto dura l'inizio quanto dura una fiammata un anno due anni tre mesi due giorni Sartre diceva che non si poteva dedicare all'amore più di una settimana per esempio e chi è che diceva a proposito della parola cameriere che non si può più citare Agnelli diceva che era una roba per cameriere l'amore sì vabbè lui una frase infelice diciamo infelice non è bella allora secondo tuo figlio l'ultimo capodanno è il tuo miglior film ci sono una serie di storie che come dire circunnavigano il film stesso vorrei che me ne raccontassi una ma infatti a un certo punto con Niccolò abbiamo deciso quasi di fare un documentario Niccolò Ammaniti diciamolo Niccolò Ammaniti avevamo deciso di fare un documentario su io e lui che andavamo in giro a vedere le persone le cose con le quali avevamo fatto il film intervistando questo e quello e intervistando anche la maga della Maglianella perché quando il film uscì andammo con Niccolò lui mi disse guarda c'è questa mia amica che c'era una sua amica che era fissata con le cose delle carte le maghe le cose e bisognava capire come mai quel film lì che secondo noi era bello era stato un disastro un disastro addirittura da toglierlo dalle sale dopo una settimana e quindi andammo da questa maga della Maglianella che io in realtà immaginavo una piccola chiatta brutta in una specie di grotta invece era una bella donna alta vestita di bianca che col pendolino lo faceva andare sulle facce dei componenti della troupe e però non veniva fuori niente alla fine io uscendo feci un nome e lei dice ah chi è questa e capì che lì forse ci potrebbe essere qualcosa ma insomma questo è quello che successe ma lui poi su questa cosa ci ha scritto un racconto meraviglioso che sta in un libro che mi sembra si chiami Favolacce in cui andiamo dalla maga della Maglianella e la maga della Maglianella è invece una piccola chiatta brutta e io personaggio io Marco Risi nel libro diffido di questa maga della Maglianella dico ma questa è una cialtrona dai invece lui sta tutto buono buono lì che sta sentendo quello che dice la maga della Maglianella che dice delle cose io alla fine dico ma andiamocene via questa è una cialtrona apri di cielo apri di cielo la maga della Maglianella la maga della Maglianella ci insegue sul raccordo anulare insegue la Ford che gli avevano prestato a Niccolò a Manniti ci insegue con un go-kart perché era piccolina e arrivati a Roma al posto dove avevamo preso questa Ford c'era vicino un negozio di animali per cui Niccolò facendo una manovra sbagliata sfonda la vetrina degli animali e la maga della Maglianella mi trasforma in un coniglio meraviglioso mi trasforma in questo coniglio il quale però ce ne hanno tanti 10-15 conigli e lui ha perso un po' però è indeciso fra 3 quindi prende questi 3-4 conigli e li porta a vedere il sorpasso per vedere quale di questi conigli si commuove durante la pressione del sorpasso ce ne sono 2 o 3 che reagiscono il quarto e il quinto invece non fanno niente quindi con questi 3 conigli va a residence da mio padre per capire se lui mio padre riconosce il suo figlio fra questi conigli mio padre prende in braccio un coniglio lo accarezza e finalmente dal coniglio esce Pappi Corsicato ma non è meraviglioso ma è un capolavoro assoluto ma dovete leggerlo ma questo lo leggo subito è un racconto meraviglioso senti la volta in cui sei stato più coraggioso in vita tua quando mi sono buttato dal trampolino nei 10 metri a ostia dicono di te è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e Tender Stories io sono Malcom Pagani la cura editoriale è di Francesca Milano la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli la post produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello le registrazioni in presa diretta sono di Michele Boreggi e Lucrezia Marcelli l'editing audio è di Lucrezia Marcelli il producer è Alex Peverengo e il nostro canale è di Lucrezia Marcelli